Quali sono le conseguenze di un possibile nuovo lockdown, una possibile nuova chiusura di tutte le attività? Io sono Matteo Andreini da Skylending.org e all'interno di questo video, dopo la sigla, vedremo quali sono alcuni problemi e alcuni consigli che voglio darti nel caso in cui ci sarà una situazione come questa. Ciao, io sono Matteo Andreini, come ti dicevo prima, sono un imprenditore. Opero nel settore del network marketing online e opero come consulente nel settore del network marketing. Quindi oltre ad essere un networker attivo sul campo che lavora, ripeto, 100% online, quindi non sono localizzato in alcuna zona, la mia attività è praticamente in tutta Europa e anche in Cina, dall'altra parte, e opero anche come consulente per networker, dall'altra parte ho un'attività fisica con la mia famiglia, gestisco la mia attività di famiglia nel settore alimentare e che si basa anche molto, onestamente, o comunque buona parte dell'attività si basa sul turismo. Perché? Perché vendiamo olio alimentare, olio extravergine alimentare, e molto spesso, soprattutto nel periodo che va da aprile a settembre, quindi in tutto il periodo della parte primavera-estate, il mio cliente principale è il turista, ok? E i miei fatturati dipendono per buona parte dal turismo e, insieme a mio padre, stavamo ragionando su quali saranno le tecniche, le strategie, le cose da fare oggi, ok? Per non trovarci impreparati nel caso di un nuovo lockdown, perché siamo tutti fiduciosi, siamo tutti speranziosi, siamo tutti positivi, ok? Pensiamo positivo che non ci sarà un nuovo lockdown, ma se nel caso ci dovesse essere? Ma mettiamo caso che l'Italia richiude tutta. Cosa facciamo noi? Allora, facciamo una premessa, il 90% dell'attività probabilmente chiuderà, perché nonostante, nonostante sono state chiuse, nonostante hanno avuto un sacco di problemi, nonostante siano mancati i soldi per mettere il cibo in tavola, vedo già chiusi per ferie dal al... Ma cosa cazzo va in ferie? Cioè, questa è la domanda, ma cosa va in ferie che sei stato chiuso due mesi? Potevi farti le ferie due mesi in casa, ti riposavi, ti rilassavi, ok? E ora non stai ad andare in ferie, non stai a spendere soldi, mi dispiace per tutti quegli albergatori, quegli ristoratori, quelli che lavorano col turismo, ma se siete delle persone serie, se siete degli imprenditori seri, non state ad andare in ferie, non state a prendere, andare, chiudere, Cioè, se c'è la possibilità di guadagnare 50, 100, 200 euro o più al giorno, ok? Anche se è feragosto, anche se è agosto, anche se è calmo, si fa, punto e fine, ok? In questo video io voglio andare ad analizzare, ovviamente io non sono un premonitore di apocalissi, non sono Dio, non sono nessuno, però io posso dare alcuni consigli, Posso dare alcuni consigli che mi hanno permesso, durante il periodo di lockdown, di stare abbastanza tranquillo. Non dico che fossi tranquillo, col sorriso, oh che bello il lockdown, ma ti garantisco e ti garantisco che il mio lockdown è stato semplicemente una pausa piacevole da tutto il mondo esterno. Mi sono riposato, mi sono rilassato, ho lavorato ai miei business online, ho lavorato anche nel settore dell'olio. Perché? Perché ora vediamo alcuni punti. Allora, la prima cosa che consiglio a tutti, a prescindere da quello che fa, da quello che non fate, è risparmiare, cioè avere cassa. Allora, tutto dipende da quanta cassa avete. Se avete cassa, siete tranquilli. Se non avete cassa, vuol dire soldi, liquidità, cash, non sarete sicuramente tranquilli. Perché? Perché l'unica cosa che vi salva dalla merda, che vi salva dai problemi veri, sono i soldi. Ok? Dovete pagare indipendenti, avete i soldi, bene, non li avete è un problema, perché la casa integrazione non arriva. Dovete pagare un avvocato, i soldi vi permettono di pagare l'avvocato. Dovete pagare un fornitore, i soldi vi permettono di pagare un fornitore. Quindi avere cassa, liquidità, non flusso di cassa, liquidità. Perché come abbiamo visto il lockdown è una di quelle poche situazioni per cui la cassa probabilmente andrà a zero. Moltissime attività che io conosco sono state chiuse e l'introidi sono andate a zero, non ridotti del 23, no no, zero, perché non potevano fare niente. Ok? Quindi la prima cosa è avere una cassa, una liquidità che vi permette di fare fronte a almeno tre, ma meglio se sei o se dodici mesi di chiusura. Ora lo so che molti penseranno, sì, dodici mesi, chi ce l'ha dodici mesi in banca. Signori, l'unica cosa che vi permetterà di stare in piedi, di stare tranquilli, cioè il concetto è, magari state in piedi anche con tre mesi di liquidità o con un mese di liquidità. Ok? Mi sta bene, ma com'è che voi state tranquilli? Io mi sento tranquillo dal momento che ho, con la base che io spendo X, ok, almeno sei volte X sul mio conto corrente, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista di business, ok, indifferentemente. Io so che il mio business, prevenso che io, nella mia gestione finanziaria, il business e il lifestyle sono insieme, perché con il network marketing ho una partita di vari regime forfettario personalmente, e quindi tengo tra virgolette tutto insieme quello che è una scena, tanto non la scarico, non è un problema, ok, ma per esempio nell'azienda di famiglia, eccetera, noi e io mi sono dato un minimo, sei volte quelle che sono le spese fisse, e onestamente non è che se allora ho sette, otto, dieci volte, allora io spendo di più. No, accanto no. Poi sì, ci sta l'ambito, l'organizzazione, eccetera, ma se hai da sei a dodici mesi, tempo di vita sia dell'azienda, questo vale per l'azienda, ma anche per il proprio conto personale, perché almeno che voi non facciate la spesa con la carta aziendale, questo dovete avere anche sul solito conto corrente, quindi dovete avere sei mesi di costi fissi dell'azienda e sei mesi di costi del vostro stile di vita. Possibilmente senza andare a ridurle, ovviamente qual è il mio consiglio? Che se c'è un lockdown, non si tiene il solito stile di vita che si teneva prima, si abbassa, almeno si stanchi più tranquilli, ok? Ok? Poi, presenza online. Qualsiasi sia la vostra attività, a meno che non siate dipendenti, e anche se siete dipendenti potrete farlo col vostro datore di lavoro, il vostro capo, il vostro boss, ok? È avere una presenza online, costruire una propria presenza online, un proprio personal brand online. Volevo fare un altro video sul discorso personal brand, perché ognuno di noi dovrebbe avere un personal brand nel 2020, ma è importante costruire una presenza online, perché? Perché la presenza online ti permette di fare due cose. Uno, di rimanere nella mente, ok? Quindi, se io ho una presenza online, se io metto delle foto online durante un periodo di lockdown, rimango in testa alle persone. Cioè, onestamente, io quei ristoranti che durante il lockdown non ho più visto online, non ci sono più stato. Sono ristato subito in quelli che mi hanno continuato a mettere le foto, mandare le email, scrivere il messaggino, eccetera, perché mi hanno ricordato che esistevano, e una volta finito il lockdown sono subito andato in quei posti. Perché? Perché mi veniva voglia durante il lockdown di andarci, ovviamente deve essere un prodotto di qualità. E la seconda cosa, per la delivery. Se io ho un'attività con una presenza online, probabilmente potrò anche fare una delivery online. Che vuol dire, potrò dare il mio servizio ai miei clienti, ai miei potenziali clienti, direttamente a casa loro. Ora, se c'è un ristorante o una pizzeria, farò la consegna a domicilio, o farò magari delivery o gestito, quello che esiste. Se c'è un'azienda come la mia, offre un servizio di corriere, di spedizione espressa, 24-48 ore direttamente a casa, con la possibilità di acquistare online, su uno store fatto su Shopify, vi do questo consiglio. Magari potete usare Shopify, per chi non lo sa, Shopify è probabilmente il miglior strumento, la miglior piattaforma per fare siti online, per fare e-commerce online. Oppure potete usare ClickFunnels, per fare una pagina di raccolta dati dei vostri clienti, per fare un po' di pubblicità per i vostri clienti. Ok? Però, creare una presenza online che vi permette di rimanere nella mente e di effettuare una delivery. Ora ci saranno persone che mi diranno, eh ma io vendo sapone, vabbè, che problema c'è? Lo vendo online tramite il corriere, oppure fai delle campagne locali e vai te direttamente a fare la dimostrazione del tuo sapone porta a porta alle persone. Magari prenoti già gli appuntamenti per quando finirà il lockdown, ma sicuramente sarai più tranquillo durante il, non dico il Covid, dico durante il periodo di lockdown, sarai più tranquillo se una volta finito il lockdown avrai già 10, 20, 50, 100 giorni di appuntamenti fissati. Ok? Perché è vero che lo stai incassando, ma probabilmente nel futuro prossimo andrà a incassare molto. Ok? Poi, se torno al lockdown vi dico preparatevi da un punto di vista di mindset. E il mindset c'entra sempre. Cioè, capite e imparate come stare da soli, come stare a casa e come sfruttare il tempo. Ok? Sfruttare il tempo. Io, soprattutto nel passato periodo, mi sono reso conto di quanto tempo la routine normale, cioè la routine di tutti i giorni, ti limita, ti fa perdere quanti minuti, quante ore nel traffico, pranzo, cena, quello aperitivo, boom, ti fa perdere un sacco di tempo. Nel periodo, impara ad apprezzare il tuo tempo, ad analizzare quelli che sono i punti, le cose più importanti e focalizzati su gestire e sfruttare al massimo il tuo tempo. Come puoi sfruttarlo? Ovviamente, sicuramente leggere, leggere libri, studiare corsi, avviare nuovi business. Business, ok? Business. Ora devo fare attenzione perché c'è una mezza truffetta, c'è due fogli, uno sotto l'altro, non so se si vede perché. Vabbè, devo ancora capire come avere il solito fuoco sulla mia faccia e sulla lavagna, probabilmente non ci riuscirò mai. Quindi, avviare nuovi business, leggere, studiare, informarsi, capire, studiare, essere all'avanguardia, ok? Cioè, essere pronti, ok? E il quarto punto che l'ho già detto praticamente perché è molto importante è, oltre ad avere una presenza online, ok? Oltre ad avere questa, che è molto importante, cioè la presenza online del proprio business per rimanere nella mente e per avere una delivery, è quello di strutturare un vero e proprio business 100% online. Perché mi puoi fare l'azienda che vende prodotti direttamente con la delivery, mi puoi fare quello, mi puoi fare quell'altro, mi puoi fare quell'altro ancora, ma se te non, se te non hai, ora mi viene il termine, se te non hai, hai magari un'azienda che spedisce merce o un ristorante che fa pizze, però il ristorante comunque anche se fai le pizze, fai la sport e te lo fanno tenere chiuso, te non puoi deliverare. Quindi sì, potrai essere pronto post lockdown, ma ci vorrà un po' di tempo. Se te hai un business 100% online, come un dropshipping, un network marketing, un self-publishing, un Amazon FBA, una qualsiasi cosa online, io ti consiglio il network marketing e ti consiglio di vedere il link che trovi qui sotto per capire come funziona, come fare, come non fare, e farlo completamente online al 100%. Ma in realtà qualsiasi business può andare e funziona in un periodo come questo, perché? Perché se sei al 100% di localizzato hai la possibilità di lavorare anche da casa dove vuoi e ottenere dei risultati concreti. Nel caso del network marketing è anche un business anticiclico, che vuol dire che quando gli altri business vanno male, quindi magari quando vanno male le pizzerie, quando vanno male i ristoranti, quando vanno male i bar, quando vanno male i negozi di abbigliamento, tutte quelle persone che hanno quel tipo di attività, quindi che hanno un'attività fisica, tantissime di queste si approcciano al mondo del network marketing perché? Perché possano sviluppare un'attività imprenditoriale completamente da casa, senza dover pagare l'affitto di un negozio, senza dover fare stock di magazzino, senza dover fare nulla di tutto ciò. Quindi il quarto step è quello di avere un business completamente online e anche lì per avere un business completamente online ti serve la cassa, ok? Quindi fammi sapere nei commenti se pensi che ci sarà un nuovo lockdown, mi farebbe molto piacere di sapere la parte mia, io spero di no, ma ho una certa paura, ok? E mi sto preparando onestamente, perché non si sa mai, poi magari ho solo più soldi da poter investire nei miei business e niente, fammelo sapere nei commenti, controlla il link sotto per vedere se vuoi guardarti la masterclass per capire come iniziare a lavorare nel mondo online al 100% e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS